ecco questa l'imbarcazione vista un attimino più da vicino è un 41 piedi si chiama mona ma questo è il primo tratto di navigazione dal porto di scarlino follonica a solenzara in corsica ragazzi qui vedrete come si stava preannunciando la traversata in notturna una tragedia vento 22 nodi e mare bello cattivo guardate un po ciao allora ciao ragazzi possiamo un attimo chiamarla la quiete dopo la tempesta perché così è stato è stato veramente un incubo è questa attraversata sono stato da cani sono stato male dalle otto e mezza di sera fino alle otto del mattino una roba pazzesca bagnato fradicio comunque tutto l'equipaggio è stato tranne uno ha avuto problemi anche luca z è stato il primo a cadere ecco puntualizziamo ecco luca z ciao ciao lui è stato il primo a cadere poi a ruota sono andato io quindi ragazzi dopo esserci rimessi in sesto dalla devastante attraversata della sera prima siamo ripartiti da solenzara in direzione bastia come potete vedere dalla clip che segue ciao eccoci di nuovo qua ragazzi a primone c'è un piazzetto non anch'io però vorreppo sulla volta questa rotta 65 eh vabbè 65 80 65 80 sono andata da vicino alla lunga però magari più vuole un piazzetto è un piazzetto suorale Grazie a tutti Ora da Bastia ci portiamo alla bellissima isola di Capraia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti